Dopo la polemica sui pochi vaccini agli over 80 effettuati in Toscana, interrogazione del portavoce dell'opposizione Marco Landi della Lega sul modello organizzativo per la somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 ai grandi anziani. A rispondere l'assessore regionale alla sanità Simone Bezzini. Il piano della regione è intensificare la somministrazione agli over 80 già nelle prossime settimane. Per Bezzini la macchina vaccinale toscana è in grado di somministrare complessivamente 30.000 vaccini al giorno, un milione al mese e la velocità dipende solo e soltanto dalla disponibilità di dosi. Tra i punti principali, tenendo conto che in aprile cresceranno sensibilmente le forniture da parte di Pfizer, i medici curanti potranno vaccinare anche nei fini settimana e potranno recarsi a casa dei pazienti, supportati in caso di necessità dalle aziende sanitarie territoriali e dal mondo del volontariato. In base a queste previsioni saranno fatte almeno 120.000 vaccinazioni da cui a Pasqua oltre 200.000 entro il 25 aprile e la toscana potrà tornare a ricollocarsi nella media nazionale. Abbiamo presentato il question time all'assessore Bezzini in merito alle vaccinazioni degli ultraottantenni, una categoria che in Toscana abbiamo visto è stata vaccinata tra le ultime d'Italia e abbiamo visto dei dati veramente pessimi, vuol dire che qualcosa nell'organizzazione non ha funzionato. L'assessore ha preso un impegno e ha preso anche una responsabilità politica molto importante dicendo che da qui al 25 di aprile saranno vaccinati tutti gli ultraottantenni della Toscana. Si parla di fare circa 240.000 vaccini da qui al 25 di aprile, ha detto che 120.000 saranno fatti da qui al 4 di aprile. Noi saremo attenti a questi dati e a questi numeri perché questo è un impegno che noi attendiamo perché se il 25 aprile questo non fosse mantenuto non potremmo che chiedere le dimissioni dell'assessore. È evidente che quello che abbiamo vissuto in questi mesi sull'organizzazione e sulla struttura che riguarda esclusivamente i medici di base a cui l'assessore dice ancora di volersi affidare, che chiaramente fanno il loro possibile, anche la mancanza evidentemente di dosi dei vaccini Pfizer che sono quelli che sono destinati agli ultraottantenni, sono in arrivo, sono in previsione di arrivo nel mese di aprile, ma quello che a noi preme di più è che questi grandi anziani siano vaccinati il prima possibile perché proprio in questi giorni i numeri dei ricoveri stanno aumentando, i numeri dei malati Covid stanno aumentando e loro sono prioritariamente la categoria più fragile che si ammala. Quindi siamo stati i primi a sollevare il caso dei vaccini Pfizer che venivano fatti non solo agli ultraottantenni in fase esclusiva, poi la Giunta è intervenuta, il Presidente in prima persona ha detto che evidentemente se tornasse indietro valuterebbe di fare i vaccini Pfizer in maniera esclusiva sugli ultraottantenni e gli altri vaccini alle categorie più giovani, quindi dividere per fasce di età. Bene, se è stato riconosciuto un errore, da qui in avanti non si può più sbagliare, noi attendiamo questa data del 25 aprile, come ha detto l'assessore Bezzini, per valutare effettivamente che tutti gli ultraottantenni siano davvero vaccinati. Non è più tempo di fare proclami, promesse, ma c'è bisogno di serietà e concretezza in questo momento che vede la nostra regione in bilico con la zona rossa. Dalle tante domande che ricevo la questione più stringente sono due, perché avete vaccinato gli avvocati e perché siamo così in ritardo sugli over 80. E molte volte le due cose vengono legate, in realtà non sono, non devono essere legate, perché gli avvocati, così come il personale scolastico, delle forze dell'ordine, venivano e vengono vaccinati col vaccino AstraZeneca, mentre per gli over 80 è possibile utilizzare solo il vaccino Pfizer. Noi oggi abbiamo somministrato già più di 428 mila dosi di vaccino Pfizer. Sono circa, ne abbiamo utilizzato, l'88% delle dosi ricevute, 234 mila agli operatori sanitari, circa 31 mila agli ospiti delle RSA e più di 100 mila agli over 80. Cosa è successo? È successo che noi abbiamo ricevuto molte meno dosi di Pfizer di quelle che immaginavamo. E allora abbiamo dovuto fare una scelta. La scelta era somministrarlo agli operatori sanitari e concludere la seconda fase di vaccinazione, oppure accelerare sulla vaccinazione degli over 80. Abbiamo scelto di completare la vaccinazione del personale sanitario di chi è in prima linea. È evidente che ora bisogna accelerare sugli over 80. Ne sentiamo tutta la responsabilità. Bene ha fatto il Presidente Gianni a dire che entro il 25 di aprile devono essere tutti vaccinati. Arriveranno 50 mila dosi in questa settimana e le faremo tutte entro venerdì. Noi siamo molto attenti a vedere se davvero i medici di medicina generale riusciranno a farlo. Se non ce la fanno loro, allora entreremo in gioco noi con gli hub, 30 hub sul territorio. E poi 70 mila la settimana successiva. Insomma, il nostro obiettivo è davvero di recuperare il terreno, tenendo conto che ad oggi abbiamo, come detto prima, vaccinato più di 100 mila over 80 in Toscana. Quasi il 90% degli over 90. Insomma, sappiamo che si può fare sempre di più e meglio. Su questo dobbiamo accelerare perché il nostro compito è quello di vaccinare più velocemente possibile tutte le persone più fragili. Il piano vaccini sta procedendo ovviamente con il grosso limite della quantità di vaccini che arrivano. La macchina delle vaccinazioni, cioè la capacità di erogare i vaccini, c'è e su questo infatti la Regione ha dei risultati positivi. Mentre non sta andando bene, siamo in ritardo sulla vaccinazione degli over 80. Questo però per tante motivazioni, una delle quali è sicuramente perché è stata organizzata la macchina della vaccinazione attraverso i medici di medicina generale, che ha impiegato un po' più tempo. E questo ritardo nelle prossime settimane verrà recuperato. In questa settimana sono in distribuzione 46 mila vaccini, 70 mila vaccini la prossima settimana. Insomma, intorno a Pasqua arriveremo a oltre 200 mila anziani over 80 vaccinati su 320 mila. Poi ci sono quelli che sono già stati vaccinati perché erano in RSA. Quindi diciamo che intorno a Pasqua si dovrebbe tornare ad un livello di vaccinazione degli over 80 importante. Noi abbiamo chiesto di cambiare modalità organizzativa, abbiamo chiesto di migliorare l'organizzazione per quanto riguarda gli over 80. Siamo convinti che tante persone che hanno 80, 82 anni, 85, 87 possono tranquillamente recarsi negli ospedali. I vaccini Pfizer sono presenti in ospedale, poi dall'ospedale vengono portati nelle farmacie. Nelle farmacie deve arrivare il medico di famiglia che va in farmacia, prende il vaccino, lo sposta nel proprio ambulatorio, poi deve chiamare il paziente, il paziente deve aspettare la fila e poi andare in laboratorio. Noi abbiamo sei spostamenti di un vaccino, con un unico spostamento potremo fare sei vaccini. Quindi bisogna semplificare. Bene, abbiamo accolto la disponibilità del Presidente a avere la consapevolezza che forse qualcosa non sta andando nella direzione corretta. Serve un impiego differente delle USCA, si possono fare a domicilio, si possono fare negli ospedali, si possono fare negli hub. Serve cambiare metro a nostra proposta. È vaccinare tutti gli over 80 entro Pasqua. Non possiamo attendere il 25 aprile perché è troppo tardi, perché queste persone hanno diritto e dovere di essere vaccinati. Le persone over 80 sono le persone che più di altre muoiono per il vaccino e noi dobbiamo dare a loro, che sono i fragili dei fragili, i più fragili tra i fragili, una vaccinazione molto rapida e veloce. Dopo le polemiche sul ritardo della Toscana nell'immunizzazione degli over 80, polemica anche per il caos prenotazioni dei superfragili, visto che il portale della regione prenota vaccino è andato in tilt, segnando così i posti esauriti quando invece non lo erano ancora. Poco prima, in 60 mila, avevano cercato di prenotarsi online per i 15 mila posti disponibili per la vaccinazione dei superfragili. Noi mettiamo 15 mila dosi di vaccino, che sono quelle che abbiamo, e di più io non posso moltiplicare i panni e i pesci, sono 15 mila, per i iperfragili che in Toscana sono 80 mila, e che noi abbiamo già incominciato a vaccinare, con il criterio che chi si vaccina deve essere nell'elenco della ASL. La ASL ha incominciato a chiamare. Ci sono anche patologie di cui la persona non gradisce che si conosca all'esterno e l'operatore ASL si è sentito la sollecitazione. Ma lei chi gli ha detto che io ho questa malattia? Perché mi telefona? Allora accanto ai 10 mila che abbiamo vaccinato nell'arco di più settimane con la telefonata ASL abbiamo detto mettiamo sul portale, che semplifica con la possibilità di prenotarsi alla hub, i 15 mila vaccini che ci sono arrivati. E lo sa che ne sono rimasti 80 mila, a me non 15 mila, 65 mila persone senza poter corrispondere il proprio desiderio. Ma i numeri sono questi. Noi man mano che ci arrivano i vaccini li rimetteremo sul portale e tutti gli 80 mila potranno arrivare a prenotarsi e a fare il vaccino. C'è stato proteste, certo. Noi abbiamo avuto da Roma 15 mila dosi di Moderna, le abbiamo messe sul portale. Quando sono finite? E sono finite. E so che ci sono 80 mila persone avendo diritto. Ma di 80 mila avendo diritto, essendo le dosi che ci hanno inviato da Roma, 15 mila, 65 mila sono scontente. Ma abbiano il senso di equilibrio, di aspettare, di vedere se la prossima volta hanno fortuna. Io chiedo scusa se non è piaciuta la frase che appare sul portale. Ma onestamente in questi momenti è stato un meccanismo, quello del portale, per accelerare. Pensate voi che è tre settimane che noi vacciniamo con Moderna le persone superfragili e il risultato è che avevamo vaccinato 10 mila persone. Perché? Perché alla telefonata della ASL, senta, lei è un iperfragile, vuol venire a fare la vaccinazione. Tanti contenti sono andati. Ma tanti? Ma chi gli ha dato il mio numero? Ma io la patologia è una questione di privacy, non voglio che si sappia. E allora, accanto al sistema più naturale della telefonata della ASL, abbiamo affiancato questo sistema del portale. Gianni ha fatto un minestrone di informazioni, volando molto alto politicamente, ma non ha risposto a quello che gli avevamo chiesto noi all'inizio seduta. Perché che il disservizio ci sia stato è evidente, che l'organizzazione sia carente ormai è conclamato, però cosa si intende a fare? Da domani ancora non ci è stato spiegato. E forse era anche semplice e umile dire qualcosa non funziona, dobbiamo migliorare. Se invece ci si focalizza sul va tutto bene, va tutto bene, ci arrivano però solo vaccini AstraZeneca e non riusciamo ad avere Moderna e Pfizer, mi domando perché Eugenio Gianni, invece di venire a fare voli pindarici in aula, non chiami il Ministero e non chieda che ci vengano forniti vaccini sufficienti e idonei per vaccinare le persone fragili e gli anziani. Questo è quanto noi pensiamo, l'organizzazione non funziona, abbiamo delle grandi falle che denunciamo da mesi ormai e che però se non vengono riconosciute per prime dal Presidente della Regione, il primo passo è proprio quello di dire c'è il problema, altrimenti non verrà mai risolto. Certo è che con la comunicazione di oggi Eugenio Gianni non ha risposto sui disservizi di ieri sera. Questo ci dispiace perché noi vorremmo riportare le centinaia di cittadini che ci chiamano quello che la Regione intende fare. Insisteremo per cercare di capire se e come miglioreranno il sistema. Sulle vaccinazioni degli estremamente fragili, l'assessorato ha l'elenco di tutti i preregistrati, che sono circa 80.000. Questa volta c'è stato un problema perché le dosi erano solo 15.000 e quindi si è creato un imbuto che ha generato delle grave difficoltà per chi si doveva prenotare. L'assessorato, abbiamo chiesto, sta lavorando a una soluzione che permetta di poter prenotare a tutti i 80.000 gli estremamente fragili che si sono registrati, tra estremamente fragili e caregiver degli stessi, in maniera da evitare ulteriori giornate come quella di ieri sera nella quale si crea solo apprezzione e difficoltà. I vaccini purtroppo ne è arrivati meno del previsto, però contiamo che nei prossimi giorni l'assessorato possa riaprire una prenotazione o introdurre delle modalità organizzative che evitino le code di ieri sera. Mentre sugli over 80 il tema è l'arrivo dei vaccini. Questa settimana sono in distribuzione in questi giorni i primi 46.000 vaccini, 70.000 arrivano la prossima settimana. Se tutto va bene come noi speriamo, grazie alla collaborazione dei medici di medicina generale, che voglio ringraziare, si dovrebbe riuscire a, prima di Pasqua, riavere un livello importante di vaccinazione degli over 80. Quindi contiamo in questi giorni di avere risultati. Mercoledì alle 14 l'assessore Bezzini verrà in commissione a riferire sull'andamento del piano vaccinale e di tutte le modalità organizzative che stiamo seguendo. Oggi siamo forse nel giorno più drammatico per la Regione Toscana dall'inizio della campagna vaccinale. Ieri sera abbiamo aperto il portale per prenotarsi online a ricevere il vaccino. Il funzionamento del portale è durato un minuto. E stamattina tutti noi siamo stati subissati di messaggi, di mail, di telefonate, di persone che non riuscivano a prenotare il vaccino. Oggi in aula discutiamo di questo e ci sentiamo dire e ripetere che non è vero, che l'opposizione si inventa le cose, che in Toscana non ci sono mai stati sprechi, che non ci sono mai state dosi buttate. Allora, serve un punto fermo e un atto di umiltà da parte di chi governa questa Regione. Siccome sbagliare è umano, non c'è niente di male se l'assessore, il presidente Gianni, i direttori delle USL si presentano e dicono abbiamo sbagliato. Non c'è niente di male. Nessuno li accuserà mai di averlo fatto in malafede. Nessuno pensa che in Toscana qualcuno abbia lavorato fino ad oggi per far fallire il piano vaccinale. Ma oggi ci sono i numeri. E i numeri dicono che la Regione Toscana è la penultima in Italia per vaccinazione degli over 80 che non riesce ad aprire il portale per vaccinare i settantenni e i fragili che qualcuno addirittura riceve invece a casa la telefonata a 40 anni per andarsi a vaccinare forse perché è un personaggio famoso in televisione. Perché gli hub vaccinali buttano via dosi di vaccino tutti i giorni o almeno le buttavano fino a una settimana fa. E non c'è stato raccontato dagli alieni. L'abbiamo visto con i nostri occhi. Quindi tutto questo è successo. Non ovviamente per dolo. Ci mancherebbe altro. Non è più tollerabile sentir dire da parte delle USL e da parte dell'assessore che noi mentiamo. Vengano queste persone di fronte ai cittadini della Toscana e ammettano di avere sbagliato. Perché sbagliare è umano e da domani si lavora per far finalmente decollare il piano vaccinale anche in Toscana. La Commissione d'inchiesta risponde alla seconda domanda serve a questo. Noi la porteremo avanti come richiesta. La confermiamo. Confermiamo una necessità. Anzi, forse oggi è ancora più importante di ieri averla. E io mi auguro che la maggioranza non faccia lo stesso errore dell'assessore e dei direttori delle ASL. Cioè, non venga a dirci no, noi votiamo contro e noi la faremo lo stesso perché il regolamento ci permette di farla. Io mi auguro che sia una commissione condivisa da tutti dove si lavora per cercare di far partire da domani la fase 2 dei vaccini in Toscana. Rispetto ai fragili quindi rispetto alla disponibilità del vaccino moderna è evidente sono ancora troppo poche le dosi rispetto all'aspettativa. Se tu hai 80.000 persone che hanno quel diritto e si sono registrate è evidente che solamente 15.000 hanno avuto quell'opportunità. Io credo che forse più che andare con il click day anche lì con il timing rispetto alla prenotazione avremmo potuto fare un ordine di priorità tra i fragili che era il meccanismo iniziale che noi avevamo proposto e che infatti stava anche funzionando bene perché le prime persone sono state chiamate dai centri di seguimento specifici delle aziende sanitarie. Avevamo proposto qualcosa di più una commissione di inchiesta specifica per tutta la pianificazione vaccinale perché è evidente che quello che sta succedendo non sono occasioni spot di servizi singoli c'è un problema strutturale e quello che è inaccettabile è la disonestà comunicativa con cui si continua a dire che la Toscana è prima e sta facendo un ottimo lavoro quando non è così. Di fronte alla frustrazione di migliaia di persone che non riescono a fare una prenotazione sarebbe invece auspicabile che la regione comunicasse quelli che sono i problemi quelli a lei imputabili e quelli che non sono imputabili come per esempio la mancanza o i tagli delle forniture e soprattutto che trovasse una soluzione e questo può essere fatto all'interno di una commissione di inchiesta un contenitore all'interno del quale mettere mozioni interrogazioni dove si possa fare un lavoro tra tutte le forze politiche per cercare di contribuire con la giunta a questo il fatto che la giunta non lo voglia è una chiusura inaccettabile lo ripeto ancora a fronte di quello che sta succedendo e non lo possiamo tollerare perché queste persone in questo momento stanno subendo oltre al danno di non sentirsi sicure perché non hanno ricevuto il vaccino anche la frustrazione di non essere in grado di farlo parliamo di persone anziane e fragili e soprattutto si sta scatenando panico sociale e allarme e la giunta è responsabile anche di questo intanto dobbiamo dire siamo rimasti allibiti da quello che è successo è inaccettabile che si dicano alle persone di andare a prenotarsi sul sito alle ore 19 e alle ore 19.01 il sito è andato in tilt c'è qualcosa che non va e questo deve essere appurato dobbiamo cambiare il sito cambiamo il sito dobbiamo implementarlo implementiamolo ma è assolutamente inaccettabile che la regione toscana non abbia un sito che supporti le prenotazioni che in questo momento occorrono tra l'altro devo dire che io sono molto contento perché è stata approvata ci aggiungiamo ad approvarla la mia mozione in consiglio regionale che è un supporto all'azione del governo e chiede alcune cose la prima è vaccinazione 24 ore su 24 oggi non possiamo più fermarci nel momento in cui arriveranno le dosi occorre vaccinare ed occorre farlo veloce 24 ore su 24 7 giorni su 7 chiediamo anche che gli over 80 vengano vaccinati non solo nella maniera più rapida possibile ma coloro che non possono spostarsi da casa lo facciano a casa cioè deve essere la regione che va a vaccinare a casa chiediamo lo scudo fiscale cioè che la regione chieda al Parlamento di fare una norma immediata equilibrata che consenta medici infermieri personale del volontariato le tante persone sono rese disponibili a vaccinare compreso i farmacisti che si fanno una dose vaccinale e purtroppo chi riceve il vaccino ha per svariati motivi uno shock anafilattico fino purtroppo al decesso non vi debba essere nessuna responsabilità per chi ha somministrato quel vaccino perché se no corriamo il rischio che non andrà più nessuno a vaccinare gli altri e poi chiediamo anche che la regione toscana consenta alle aziende che si sono rese disponibili di vaccinare presso le loro aziende ecco delle azioni che consentiranno di accelerare la fase vaccinale che ancora è troppo lenta naturalmente occorre un impegno del governo per far arrivare i vaccini perché se è vero che da un lato la regione soprattutto per esempio sugli over 80 è in ritardo è altrettanto vero che le dosi che stanno arrivando in regione toscana non sono sufficienti e mi permetto di dire in Italia quindi occorre un'accelerazione e occorre anche a mio parere dire alle case farmaceutiche che se non rispettano gli obblighi e i contratti che si sono assunti e allora quel vaccino deve diventare patrimonio dell'umanità perché in un momento come questo non si può pensare che le case farmaceutiche da un lato si arricchiscono con i loro brevetti e dall'altro ci sono persone che muoiono perché prendono il covid approvata all'unanimità dal consiglio regionale della toscana una mozione presentata dal gruppo pd che ha visto come primo firmatario il capogruppo vincenzo ceccarelli e condivisa da tutti i gruppi in base all'atto di indirizzo la giunta regionale deve sollecitare il governo a favorire l'apertura di un tavolo nazionale tra i rappresentanti dei lavoratori e l'azienda Amazon per affrontare il nodo delle condizioni di lavoro e superare le difficoltà evidenziate sia nel sistema della logistica che delle consegne la regione deve inoltre impegnarsi ad elaborare uno specifico provvedimento che nel rispetto della competenza regionale in materia abbia lo scopo di introdurre disposizioni normative volte ad accrescere la tutela e sicurezza dei lavoratori della cosiddetta gig economy noi abbiamo presentato una mozione per invitare la giunta e il presidente a sollecitare il governo nazionale affinché si faccia parte attiva per vedere di superare il problema che è stato denunciato con un altissima percentuale di adesioni allo sciopero dai lavoratori di questa grande multinazionale questa multinazionale ha 175 centri di distribuzione nel mondo 40 in Europa alcuni anche in Italia fra l'altro due qui in Toscana a Pisa e qui nella piana fiorentina e c'è stato un forte aumento tra l'altro degli volumi di affari di queste aziende che sono legate all'e-commerce causa anche il covid che ha costretto le persone a stare in casa c'è stato un aumento di oltre il 50% dei volumi di affari ecco rispetto a questo aumento di volumi che presuppone anche un aumento dei guadagni c'è invece una situazione che viene denunciata dai sindacati dei lavoratori di compressione di quelli che sono i diritti la qualità del lavoro che sono costretti invece a subire in termini di turni stressanti di necessità di consegne alle ore più disparate assenza di clausole sociali nei loro contratti molti di questi contratti sono precari e quindi c'è stata un'altissima adesione al primo sciopero che è stato indetto dai lavoratori di questa grande azienda perché ha partecipato oltre il 70% ecco noi pensiamo che vada riaperto il tavolo che invece l'azienda ha interrotto di confronto di dialogo con i lavoratori perché siano accolte le richieste che loro fanno e quindi occorre essendo questa è un'azienda che ha presenza su tutto il territorio nazionale che il governo si faccia carico di questo riapra questo tavolo e siano possibilmente questo noi auspichiamo accolte le richieste che vengono fatte in più ci impegniamo anche a produrre un atto legislativo che vada incontro alla tutela dei diritti del lavoro dell'economia cosiddetta digitale questo pensiamo sia non solo dovuto ma anche fortemente coerente e in linea con la tradizione di civiltà e con l'impegno per la qualità e la sicurezza del lavoro che la Toscana ha sempre messo nei propri atti intanto la solidarietà e la vicinanza è giusto che il Consiglio regionale la esprima sempre noi non siamo soliti portare in aula mozioni sulle tematiche del lavoro e condividerle indipendentemente da chi le presenta noi ci aspettiamo che anche qui la regione si attivi il prima possibile per dare risposte a tutti quei lavoratori che lavorano anche in tempo di pandemia che subiscono turni che sono pesantissimi e che hanno giustamente delle richieste da fare alla politica che non può tacere la risposta ma che si deve impegnare per portare le loro soluzioni intanto mi fa piacere e voglio fare veramente complimenti ai lavoratori di Amazon perché prendere una iniziativa sindacale come quella che hanno preso contro forse il più grande colosso mondiale non credo sia facile serviva serviva perché bisognava portare l'attenzione sulle condizioni di lavoro di queste persone io mi auguro che il Consiglio regionale abbia fatto non so se riusciremo a fare qualcosa di concreto per loro me lo auguro ma sarà difficile visto le dimensioni della controparte però mi auguro che il Consiglio regionale della Toscana sia l'apripista per avere il coraggio di far luce su una situazione di lavoro che non è possibile accettare nel 2021 ma è un'attenzione che vuole dare il Consiglio regionale indipendentemente dalla ripartizione di carattere politico per dimostrare che c'è un'attenzione forte al mondo del lavoro a un lavoro che in questo momento sta affaticando rispetto alle tutele di un settore che comunque sta producendo grandi utili grandi redditività e che sta tra virgolette guadagnando dalla crisi degli altri e quindi come tale questa redditività deve essere condivisa e ripartita fra chi quel lavoro produce che mediante il proprio lavoro produce quel reddito la regione deve fare il possibile con la consapevolezza che una buona parte del lavoro dovrà essere fatta per le garanzie a livello nazionale io ricordo che il movimento 5 stelle appena salito al governo si è subito proposto per la sicurezza dei cosiddetti riders di coloro che appunto portano i pasti a domicilio dobbiamo fare lo stesso tipo di intervento è fondamentale perché questi lavoratori sono sempre più diffusi e soprattutto questa multinazionale ma dobbiamo fare attenzione anche alle altre deve garantire i giusti livelli di tutela non c'è lavoro se non c'è lavoro sicuro e retribuito e con le giuste garanzie questo deve essere un imperativo per la Toscana e per il nostro governo e per la Toscana